Musica Allora io intanto ringrazio Domenico per la sottoscrizione al canale per il decimo mese Grazie mille Domenico, grazie mille per questi dieci mesi e grazie mille anche a Vinks The Links per il settimo mese Grazie mille Vinks Grazie di cuore, grazie di cuore Allora le varie richieste si sono definite casi secondari Puoi accettare i casi secondari presso l'agenzia investigativa, il bar e lo studio legale Ora puoi giocare a Flipper in ufficio Io vorrei andare anche a giocare a poker eventualmente, non ci so giocare a poker nel senso però era figo Scusa posso vedere per curiosità Ladro di mutandine in libertà e dove è finita la mia giacca Vabbè poi vediamo Tutti questi sono compiti secondari che per carità non è che ci dispiacciono però Io devo A parte uscire dalla finestra perché è giusto così Dai che ce la fai, ma le altre volte sei uscito dalla finestra perché adesso È diventato timido Ah dovevo uscire per forza Ok Salve Non è stato così Vabbè Ah Vabbè Assicurare Allora le vi Allora le vi Ma Non è che la mia Grazie a tutti. Ah, ah... Non è un problema per meio... Ah, Kim, lo amico. Lo non o no con i sceglioni. Però nel periodo hanno un esempio di questo. Il mondo si trattò. Ehh? Si trattò? Il mondo sbagliato. Ehh!? Fungh, l'evento di un'evento, è vero? Beh, in questo caso, non è vero, non è vero. Cosa? Cosa? Ti senti! Mi sono i conoscenziati. Mi sento in fronte, non mi sogo. Gagami... E anche il leader della banda Allora aspetta il leader ce lo teniamo alla fine Prima andiamo con gli scagnozzi C'è da dire anche una cosa però Per quanto riguarda la personalità del protagonista Vabbè adesso dobbiamo ancora studiarlo bene Nel senso è passato poco Da quando abbiamo iniziato il gioco Però c'è da dire che Kazuma Kira è un po' più Trepotente Scusa tu non hai mai trovato a rompere i maroni Che ho tre spezzi di bie Parati parati in attimo però Aspetta potenziamoci pure noi Bamme te Eh scusa E questo è quanto Cosa 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 Solo lui No, da tu vuoi Allora, dove ci eravamo lasciati Uscendo dall'ufficio, nel senso Immagino che adesso ci arriverà anche qualche Ok, ok La sciapana, non fa niente, io spezzame i ditti. Grazie caro, grazie caro. Occuparsi della banda Cain. Allora, quegli insolenti della banda Cain continuano a infestare le strade alla ricerca di Yagami. Puoi scegliere di ignorarli oppure puoi decidere di insegnare loro una lezione usando i tuoi punti e i tuoi oggetti. Tieni presente che se impieghi troppo tempo per batterli arriverà la porrizia, in tal caso taglia a gorda. Ok, va bene. Grazie mille Eisedo per la sottoscrizione al canale per il tredicesimo mese. Grazie mille Eisedo, grazie di cuore per questi tredici mesi di supporto. Allora, chi è che davano fastidio? Dov'è la signorina in questione? Mi scusi, tanto per capire qual era il problema. Va bene, nel frattempo posso mangiare qualcosa? No, neanche. E che è? Manco un pranzetto ci ho offerto. Insomma, insomma. Questo è il collega nostro. Ma no, è una gara di droni. Può essere che è il collega nostro uguale. Ok, raggiungi la Millennium Tower. Vediamo un attimino. Sì, poi sblocchiamo anche quello del fredinamento. Eh, il casino poi dobbiamo trovarlo se c'è... Non so se ci sono giochi di carte tipo poker come in Yabu, in realtà. Etto... Eh, sennò spacca la testa a qualcuno. Rivali così a caso. Ci stiamo a scrivere dove? Campionato dei droni? Ah, la corsa di droni ci sta. L'uccello spicca il volo. Nel senso. Ok. Beh, buon volo di prova, eh. Vabbè, se è per la gara, allora. Eh? Ma sì, dai. Facciamoci il campionato dei droni, signori. Eh, poker e blackjack erano fighi. Ahia, se ci stanno pure qua, ci rifacciamo qualche partitina, signori. Poi se troviamo il casino, in realtà. Il casino, il localino. Sembra che abbiate formato una comunità piuttosto vivace, ok. Ah, anche la personalizzazione. Eh, come le mini 4VD, signori, di Yakuza Kiwami, che poi non vi ho portato più. Però le mini 4VD, ragazzino, non so quanti di voi ci giocavano, non so se c'erano ancora le mini 4VD. Però rivederle in Yakuza Kiwami è stato il top. Vabbè, il nostro drone in realtà è per fare foto, non è per gareggiare, però... Ci ha fatto la modifica al drone. Adesso è perfetto. L'ho truccato in modo da aumentarne la velocità. Sulla i componenti interni, ma quando lo farai gareggiare rimarrai a bocca aperta. Vabbè. Lascia fare, lascia fare. Infatti, però, vabbè. Costruiscono, vabbè, pezzi di droni. Se ti trovi in difficoltà per una corsa, vai da loro e potenzieranno il tuo apparecchio. L'obiettivo non è personalizzarlo da sé. Allora, puoi ottenere materiali per le parti dei droni come premi dei minigiochi o trovandoli in città. Alcuni materiali si trovano in luoghi accessibili solamente con il drone. Attenzione. Non c'è altro da dire. La prossima volta che ci vedremo sarà in pista. Signori, vai con le gare. Sì, si chiamava Ometto. Non so se è proprio il nome. Eh, le mini 4 VD erano una tostata. Va bene. Ah, ma Chiara era all'inizio. Va bene. Ma sì, famocelo il campionato di droni, signori. Magari ci modifichiamo pure il nostro. Eh dai, no, che devo fa' il torneo. Oh, ma si più. Ma sì... Kaido da. Vabbè prima ci facciamo il torneo però signori Nuo va bene lavorare però fino a un certo punto Aspetta che lì c'è qualcosa da raccogliere Una vite Vite di qualità Allora vediamo un attimino Scusi signora prima di scrivermi Voglio truccare Guarda come vende le cose questo Sì Allora Telaio Motore Elica Turbo Allora noi abbiamo Eh però ci servono anche i materiali necessari Che noi non abbiamo Ma i materiali li vende pure lui Non è abbastanza materiale No Ma io pensavo li vendesse anche Scusa Ma che è sta barbonata Posso comprare qualcosa da qua No Lo modifica ma non li vende Vabbè non troveremo mai tutti i pezzi necessari Comunque signori mi posso iscrivervi Corsa singola Volo di prova Ah c'è anche il gioco online Ah c'è anche il gioco online Cioè signori vabbè Lascia proprio perde Premio plastica Premio plastica Ah Ok ci da Vedete i pezzi per Eh qua mi sa che per i minigiochi ci dobbiamo fare una live a parte Perché è qua signori Questo ci serve per vincere i pezzi per modificare il nostro drone E' qua i minigioci Quindi hai voglia E toglimi Allora velocità massima Siamo un po' lenti Siamo un po' lentini Abbiamo le calcagne Vai signori, ultimo giro, ultimo giro Facciamo anche la salute Schianti male No, ci ha fregato questo Dai, ricarica il turbo Donna fotofinish I rischi, signori I rischi Appelo proprio Per tre decimi Riku il fugace Ci stava per Rana pop corn Insomma, vabbè Vite professionale No, non ci interessano Dovamo incontrarci qui C'è anche una vite C'è una vite Vabbè, prima che S'è trovata Ma con quale tristezza Signori, questa pesca ha chiuso Ma è tristissima Questa cosa Ma io pensavo fosse Il laghetto fatto bene Comunque Non così Buon uomo Posso pescare anch'io E niente No, dove vai Aspetta Vabbè, scusa Ci ha pescato Ciao E niente Scusa Possiamo uscire da Per piacere Ah, ok Magari sei in acqua Magari sta facendo il pesce È vestito da pesce Da trota È abbastanza Stai aspettando qua E niente Cosa No, non Ma E niente Ma E niente Cosa Ah? Ciao, hai chiesto di fare? Non è vero, non è vero Hai raggiunto, vieni a qui Non vieni a te, non vieni a te Hai, non è il giusto di te, non è il giusto di te, non è il giusto di te Ma, chi è? Non è che, non è un giusto di farlo Non è un po' diverso, non è il giusto di noi? Oh, ci sono altri. Ehi, ci sono dei ragazzi. Ci sono dei ragazzi di conoscere Dekano? Ehm, ma perché è la teca di adentare Dekano? Ehm, eh, eh, no, no. Eh, e'va, no, no. Ehm, non è che c'è quella che ha la gente. Ehm, che cosi? No, no no, no non so. Come si fosse un ragazzo di Dekano? Si, non c'è una ragazza di Dekano, no. Esatto, se no finitere la la scuola di Bish Si risponde una battaglia La Pappa Dai una secchiata Sto vorazio E no E questo è quanto Non è ancora Ah, beh. Eh, ok. Eh, ok. E che casino signore Infatti tu con questa camicia non puoi entrare E' ottenuto 300 chip da casino E' la chiave della mano Signori possiamo andare al casino Andiamoci a giocare Allora non so giocare a carte Quindi sappiate che Scenerà un macello Allora la chiave che ci ha dato secondo me era Questa No allora era questa Ok Vedi come sta La zona sopra De Pesca tutta Farlock è sotto se giocano i soldoni Allora aspetta qua ci dobbiamo fare Un partitone a poker eventualmente Se si può Si può? Allora c'è il tavolo Del blackjack E blackjack Qui cosa? Che fa poker? Poggio a poker? No ma poker Ma lascia fare Puoi giocare con noi oggi Yes 100 chip Visualizza regole Perché io non mi ricordo Vediamo signori Allora abbiamo un 4 e un 8 Quindi al momento passo Quindi al momento passo Abbiamo una coppia Quindi passo Potremmo puntare anche alla scala Se esce un 2 No Passo Mi sa che stiamo messi tutti male No però la scala ci servirebbe pure il 5 Eppure il 5 Giusto? Vabbè Abbiamo vinto noi con la coppia signori C'è nata proprio di lusso Una coppia di 4 Continua a giocare Vabbè tanto se passiamo E non puntiamo altri soldi Va bene Qua si potrebbe puntare Ah lo vedo Per il momento Vedo Abbiamo 2 cuori In una capanna Allora aspetta Qua si potrebbe fare Com'era tutti i cuori Uno di cuori ci manca Se esce il 4 Facciamo una scala di cuore Colore Colore Ecco Certo se esce pure il 4 Però Ci proviamo Arca Però così abbiamo fatto comunque tipo scala 3 4 5 6 E 7 E' una scaletta 6 e 7 E' una scaletta La scala Perché prima c'era il 3 E' una scaletta E' una scaletta Quindi comunque scala 4 5 6 7 8 Un 10 Lo puntiamo Dai Quello rilancia Aia Vedo Vedo Alè Signori abbiamo vinto di nuovo Continua a giocare Dai è così Ok L'ultima signori L'ultima Ci vogliamo rovinare Che poi dobbiamo vedere pure quanto valgono ste cittette qua Coppia 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 Passa pure tu Passa pure tu Dacci in asso qualcosa Che facciamo un doppia coppia Qualcosa di Allora se passano non hanno niente Quindi puntiamo che magari carta più alta ci stiamo Ok a posto A posto così In linea teorica negli yakuza c'erano i tavoli divisi anche a livello dei soldi Cioè questo si puntava a 100 Ce ne sono alcuni dove si puntava tipo mille per dire No aspetta Ho capito che sta aspettando ma io non doi cambio ste cipi No ma scusi No ma scusi Ma vediamo Una situazione Ci stavano aspettando Abbiamo fatto aspettare un'ora scusate E' partita la ragazza Magari poi nell'episodio può essere che ve lo porto a parte Vabbè alla fine è un po' E' 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 un po' Particolare E' un po' E' un po' E' un po' E' un po'